Vitaliano Bilotta Chi? Il finanziere Benesti? L'iniziazione generale Aracne Editrice Esempio di narrativa attiva Chi? Il finanziere Benesti? Il finanziere Benesti è la cronaca di alcune vite rilette alla luce degli insegnamenti dei maestri spirituali che forniscono un'interpretazione sulla base della filosofia della reincarnazione I maestri chiamano iniziazione generale questo bisogno di risposte che un numero sempre maggiore di persone sente e che le religioni e le filosofie non sono più in grado di fornire non a caso l'iniziazione generale prepara alla religione della coscienza Grazie a tutti Grazie a tutti